Conoscere per amministrare è un progetto della Presidenza del Consiglio Comunale che darà la possibilità agli aspiranti consiglieri comunali, amministratori, attuali consiglieri di quartiere, consiglieri comunali, cittadini che vogliono vivere una cittadinanza attiva, di poter scoprire come funziona il Comune, dalla storia della sua città, la storia urbanistica, la storia sociale di questa comunità, fino a passare per gli organi di governo, la tecnica politica, la tecnica di governo, tutti i servizi che il Comune eroga e perché e come li eroga. Una possibilità che diamo chiaramente a metà mandato, quindi a coloro che vogliono avvicendarsi e magari candidarsi alla prossima tornata amministrativa, ma una grande possibilità che diamo a tutti per informarsi e farlo in maniera più consapevole. Quante lezioni ci saranno? Allora, le prime lezioni partiranno il 3 marzo, il primo modulo, che sarà di 4 lezioni se non sbaglio, quindi il 3 marzo partirà il primo modulo e poi avremo 6 moduli, compreso questo, quindi altri 5 moduli fino a tutto il 2022. Un modulo al mese di circa 2, 3, 4 lezioni in base alla dimensione e agli argomenti trattati nel modulo, quindi fino a novembre 2022. Lezioni che saranno serali? Lezioni che partiranno circa le 17.30, quindi per consentire a tutti la partecipazione, si svolgeranno in presenza nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro, per cui il numero è limitato, ma la partecipazione è libera e limitata per coloro che volessero partecipare anche in videoconferenza. Gli argomenti, chiaramente partiamo con il primo modulo del nostro ciclo di conferenze che riguarda la storia della città, partendo un po' dalla nostra popolazione picena perché si è insediata a peso e arriva chiaramente lo sviluppo sociale ed urbanistico del boom economico, una base che ci consentirà di poi procedere con tutti quelli che saranno gli argomenti che riguarderanno in particolare i servizi, gli organi di governo, cos'è una delibera, cos'è una determina, quali sono i compiti del Sindaco, il Consiglio Comunale, i servizi come vengono erogati. Chi saranno i professori? I relatori del primo modulo saranno esperti o addirittura docenti della nostra Università di Urbino. Il primo modulo che riguarda la storia urbanistica, amministrativa e sociale della città interverranno Laura Cerri, Riccardo Paolo Guccioni, Marta Scavolini, Silvia Serini, Andrea Girometti e Ilaria Favaretto. Interverrà anche per una testimonianza il Sindaco Giorgio Tornati.